Musica Quello che non vorrei incontrare La plastica del mio padre I vesti e le balene per sifugare Le ceriaglie e conchiglie Con la spiaggia troviamo bottine Sono l'insegnante della scuola secondaria di primo grado a Martini-Vestina Gli allunni della classe prima G hanno partecipato con l'attuchiasmo al progetto di sole in classe Hanno sviluppato la tematica dell'emergenza della plastica del mare E hanno fatto un gesto simbolico Il cui significato è che tutti quanti noi possiamo fare qualcosa Se dovessimo vincere potremmo utilizzare questi fondi per adottare il nostro lavoro di scicchietto Quindi Buon anno! Buon anno! Grazie a tutti.